Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi ho deciso di parlarvi delle mie 5 serie tv preferite. Prima di iniziare però vi dico che ho evitato le serie tv che non ho finito di vedere, per esempio Grey's Anatomy che ho visto quasi tutte le stagioni però poi dopo ha cominciato a rimanermi un po' pesante e quindi non l'ho più finita e poi ho evitato le serie tv comedy come Scrubs o Big Band Theory perché volevo parlarvi solo delle classiche serie televisive, magari un giorno potrei dedicare un video anche a quelle comedy che mi sono piaciute di più. Vi ricordo però come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Io non sono... Non l'hai detto cominciamo? Infatti, cominciamo! Io non sono una divoratrice di serie tv semplicemente perché per la vita che faccio preferisco guardare film insieme a mio marito o alla bambina piuttosto che le serie tv che mi impegnano sicuramente per più tempo però ecco, nella mia vita ne ho viste alcune che mi sono veramente rimaste nel cuore e sono bellissime. L'unica che non ho inserito in questo elenco è Trono di Spade una serie meravigliosa che penso abbiamo visto praticamente tutti però ho pensato che ci sarebbe quasi tanto da dire che servirebbe un video a parte e poi appunto è una serie talmente famosa che forse non aggiungerei niente di nuovo a quello che già sapete e quindi vi parlerò di altre 5 serie che però mi sono veramente tanto piaciute. La prima è Lost, una serie televisiva statunitense creata tra gli altri da J.J. Abrams e che è andata in onda tra il 2004 e il 2010. Quindi se avete più o meno la mia età sicuramente ve la ricorderete perché io quando facevo all'incirca la quarta, quinta, superiore praticamente tutti guardavano questa serie ed erano costantemente incollati al computer o alla televisione per vedere come sarebbero andate avanti le puntate. Abbiamo sei stagioni e questa serie racconta dei sopravvissuti a un disastro aereo che si sono ritrovati su un'isola all'apparenza deserta nell'oceano pacifico del sud. All'interno di questa isola i personaggi devono affrontare un sacco di avventure che uniscono elementi reali a elementi soprannaturali e di fantascienza. La cosa geniale secondo me di questa serie è che emergono un sacco di domande durante la visione che non hanno una risposta immediata. Non solo non ce l'hanno in quella puntata ma a volte la risposta non arriva neppure all'interno di quella stagione ma dobbiamo aspettare quella successiva. Questo è stato un ottimo trucchetto per tenere gli spettatori incollati allo schermo perché c'è così tanta voglia di sapere qual è la spiegazione che sta dietro quel determinato avvenimento che non si può fare altro che guardare una puntata dopo l'altra. Inoltre ogni puntata terminava in una maniera in cui non potevi assolutamente aspettare dovevi solo mettere la puntata successiva e guardarla perché non potevi resistere. Le stagioni sono un po' come erano quelle di una volta, adesso non vengono quasi più fatte così cioè stagioni molto lunghe, più di 20 puntate a stagione e anche piuttosto lunghe le puntate tra i 40 e i 50 minuti. Oggi si tende a farle un pochino più brevi, un pochino più corte. Le puntate hanno tutte una struttura orizzontale quindi c'è la storia di ciò che avviene ai personaggi nell'isola e però si alterna a dei momenti di flashback o scene future che danno un approfondimento su quel determinato personaggio. Questa serie tv ha vinto numerosi premi tra cui il Golden Globe e vi dico una piccola curiosità, è stata una serie tv molto costosa anzi la serie tv più costosa della storia della televisione. Questo perché c'erano veramente moltissimi attori e anche le ambientazioni erano varie e piuttosto costose. Pensate che soltanto l'episodio pilota è costato 14 milioni di dollari. I soldi però evidentemente sono stati ben spesi perché la serie è stata guardata da oltre 16 milioni di persone. La seconda serie di cui vi parlo è Revenge che invece è uscita tra il 2011 e il 2015. Io in questa serie mi ci sono veramente tuffata ed è stata una bellissima scoperta. La serie è composta da quattro stagioni e la prima diciamo è liberamente ispirata al conte di Monte Cristo di Alexandre Dumas. La storia parla di Amanda Clark, la protagonista di questa serie che si trasferisce negli Hampton per vendicare suo padre. L'uomo infatti era stato ingiustamente accusato di aver preso parte e aver anzi ideato un attacco terroristico. Quindi l'uomo era stato arrestato, poi era morto e Amanda Clark, la figlia sballottata tra una famiglia affidatare e l'altra era finita in un carcere minorile fino alla maggiore età. Una volta uscita però si ritrova con un ingente patrimonio che le permette di trasferirsi negli Hampton e poter cominciare la sua vendetta. Infatti Revenge significa vendetta. Lei vuole eliminare ad una ad una tutte le persone che hanno fatto in modo che il padre venisse accusato. In particolare la famiglia Grayson che è titolare della Grayson Global la ditta per la quale lavorava proprio il padre di Amanda. La storia soprattutto la prima stagione è veramente incantevole perché è una storia d'azione l'attrice stupenda, mi è piaciuta tantissimo e insomma ci sono intrighi, ci sono vendette, segreti da svelare che poi ritorneranno anche nelle stagioni successive quindi è una di quelle serie che si guardano quasi tutto d'un fiato. La protagonista come ho detto mi è piaciuta molto perché secondo me è il personaggio ideale per questa serie ma soprattutto mi è piaciuta l'ambientazione quindi siamo tra i ricchi quindi tutto è possibile perché quando sei ricco puoi veramente fare qualsiasi cosa puoi corrompere chiunque puoi avere qualsiasi tipo di segreto tanto hai sempre una facciata che copre un po' tutte le cose buie nascoste e sporche della tua vita quindi una serie davvero accattivante ve la consiglio se non l'avete vista perché non è troppo conosciuta però secondo me merita davvero. La terza serie di cui vi parlo è Dexter questa veramente è stata una bellissima scoperta che abbiamo fatto col Maritino allora questa serie è uscita tra il 2006 e il 2013 e racconta la storia di Dexter Morgan quest'uomo che lavora per l'ufficio scientifico tecnico mi ricordo aspetta la storia racconta di Dexter Morgan un tecnico della polizia scientifica di Miami che però nasconde un terribile ed enorme segreto lui è un serial killer ma un serial killer con un codice morale diciamo nel senso che è riuscito a incanalare questo istinto omicida dirigendolo solo verso i criminali che sono in qualche modo riusciti a sfuggire alla giustizia e quindi diciamo un cattivo che però è buono nel senso che si è un serial killer però uccide solo i cattivi quindi riusciamo nonostante il tipo di personaggio a simpatizzare con lui poi ovviamente lui vive insieme ad altri personaggi c'è la sorella anche lei in polizia c'è una compagna e ci sono poi dei serial killer particolarmente difficili da scovare che accompagnano il nostro protagonista durante le varie stagioni di questa serie infatti vediamo sì la storia di Dexter Morgan che evolve e si sviluppa durante tutta la serie però ogni stagione ha anche una storia a sé che lo vede tentare di catturare un cattivo con qualche difficoltà ecco chiaramente la storia è veramente bella io ho apprezzato soprattutto l'originalità del protagonista chiaramente un finale a sorpresa che non mi sarei mai aspettata e che mi è piaciuto e soprattutto ho apprezzato la sigla ragazzi guardatevi la sigla di Dexter perché secondo me è una delle più belle mai create quindi niente è una storia quasi un poliziesco però siamo dalla parte di quello che è un cattivo che poi forse tanto cattivo non è insomma una serie che vi consiglio ovviamente se non la conoscete ma se la conoscete fatemi sapere cosa ne pensate perché non ho mai incontrato nessuno a cui non sia piaciuta la quarta serie che vi consiglio è Big Little Lies da non confondere con Pretty Little Liars che io però non ho mai visto ma Big Little Lies piccole e grandi bugie una serie fantastica sono due stagioni di sei puntate l'una mi pare quindi una cosa veramente molto veloce che sono sicura divorerete praticamente in due giorni prima di tutto vi racconto la trama questa serie che è anche molto recente se non erro la seconda stagione è uscita un annetto fa racconta la storia di principalmente tre donne poi diventano quattro che sono legate da un avvenimento molto particolare ovvero un omicidio la prima stagione infatti inizia proprio con questo omicidio non sappiamo ancora chi sia la vittima ma che insomma vede sconvolta un'intera cittadina perché è avvenuta proprio durante una cena di beneficenza organizzata dalla scuola dei bambini di queste donne e scopriamo subito che queste donne sono in qualche maniera collegate a questo terribile evento come? beh a quel punto inizia ad andare si inizia ad andare indietro nel tempo a vedere qual è la vita di queste donne e come si è legata ecco la loro vita a quella delle altre abbiamo per esempio una donna che cresce da sola il proprio figlio un'altra che ha un rapporto difficilissimo con una figlia adolescente che non riesce proprio a capire e un'altra che è Nicole Kidman che invece subisce abusi in casa dal marito che la picchia oltretutto Nicole Kidman in questa serie è di una bravura pazzesca veramente impressionante tanto che ha anche vinto il Golden Globe come miglior attrice protagonista proprio per per la sua interpretazione in questa serie ma in realtà le attrici mi sono piaciute tutte si parla di tematiche molto particolari come appunto la violenza domestica ma anche in generale il rapporto per l'appunto con i figli il rapporto tra le amiche segreti che ci possono essere il rapporto tra marito e moglie e viene fatto tutto in una maniera talmente naturale talmente vera che noi riusciamo a sentire quello che provano queste donne e questo ci fa ancora più immedesimare nella storia e la rende più viva più vera e non c'è niente di scontato non c'è niente di banale di trito e ritrito viene tutto affrontato in una maniera per l'appunto reale ed è questo poi che la rende una serie speciale che ha vinto tanti premi proprio come serie ha vinto il Golden Globe ha vinto l'Emmy quindi insomma è una serie che è stata universalmente riconosciuta come un capolavoro insomma questa serie è qualcosa che vi arricchirà ma soprattutto è una di quelle serie che una volta terminate continuerete a pensarci e a parlarne perché rimane veramente impressa nella mente bellissima l'ultima serie che vi consiglio è qualcosa che è in onda anche adesso nel senso che sono uscite 5 stagioni ma ne dovrà uscire una sesta che dovrebbe essere l'ultima sto parlando di This Is Us ormai io credo che sia famosissima perché quando condivido qualcosa su Instagram mi scrivete in tantissimi per dirmi quanto anche a voi sia piaciuta questa serie però io sono qui anche per parlare a chi non l'ha ancora vista guardatela perché merita davvero questa è una serie recente appunto uscita dal 2015 ed è ancora in corso e racconta la storia di tre fratelli anzi tre gemelli anche se in realtà la loro storia è un po' particolare perché vediamo questi genitori Jack e Rebecca che negli anni 80 concepiscono questi tre fratelli ma nel momento del parto uno dei tre purtroppo non ce la fa e muore proprio in quell'occasione loro hanno l'opportunità di poter adottare un bambino di colore che è stato abbandonato lì in ospedale poco prima ecco quindi che i figli rimangono tre come era diciamo predisposto visto che aspettava tre gemelli ma uno di questi è adottato va bene il tema dell'adozione per me è particolarmente importante però non è solo questo il protagonista della storia anzi noi vediamo sia la storia dei genitori di questi tre fratelli quindi molte scene del passato come si sono conosciuti come hanno gestito i loro figli e le varie fasi della vita che hanno affrontato quindi figli piccoli figli un po' più grandi figli adolescenti e così via e poi siamo invece al giorno d'oggi dove invece vediamo la vita dei tre fratelli come hanno diciamo le direzioni che hanno preso le loro vite le loro famiglie eccetera eccetera insomma quindi sembra una storia in realtà di quotidianità ma c'è molto di più i tre fratelli hanno tre vite veramente molto particolari che cambiano nel corso del tempo degli obiettivi che riescono a raggiungere e soprattutto credo che sia da rimarcare il fatto che vengono affrontate tante tematiche l'obesità l'adozione per l'appunto il rapporto tra fratelli il rapporto genitori figli le bugie che si possono dire a fin di bene addirittura il covid le disabilità insomma ci sono veramente talmente tante tematiche affrontate in maniera intelligente secondo me che questo è chiaramente un punto a favore di questa serie io mi sono ritrovata veramente ad immergermi in queste storie sentirmi quasi a casa ogni volta che guardo una puntata ho apprezzato molto il fatto che in questa serie per la prima volta non c'è una trama scontata per esempio vi faccio un esempio quei lasciamenti improvvisi perché una coppia è stata insieme per due stagioni ok basta non se ne può più le facciamo lasciare per un motivo futile oppure innamoramenti assurdi tra personaggi che si rigirano e si passano l'uno all'altro senza in realtà un approfondimento del rapporto ecco questi questi scamotage non ci sono in questa serie e io l'ho apprezzato vi basti pensare a Grey's Anatomy ecco come è diventata nelle ultime stagioni è quello che me l'ha fatta un po' odiare tra virgolette e questo non l'ho ritrovato in This Is Us nonostante siano tante stagioni cioè si parla anche della finalmente della possibilità di rimanere insieme per sempre perché c'è anche questo insomma alla fine nel mondo anche la possibilità di trovare la persona giusta e nonostante le tante difficoltà e problemi che si possono trovare riuscire ad affrontarli insieme poi ovviamente ci sono anche casi ed è abbastanza normale in cui due persone si lasciano però non è usato questo come un escamotage per creare un po' di turbamento giusto per tenere le persone incollate allo schermo un'ultima cosa che apprezzo molto della serie che è il fatto che questi tre fratelli ricordino il rapporto che c'era tra i loro genitori quando loro erano bambini come qualcosa di bello di meraviglioso loro vedono i propri genitori come i classici la classica coppia perfetta coloro che si sono veramente amati per tutta la vita e hanno amato in maniera incondizionata i loro figli sbagliando a volte ma cercando sempre di fare del loro meglio e cercano in qualche maniera di riportare questo esempio positivo che hanno della loro infanzia anche nella loro famiglia che hanno da adulti e finalmente in questa serie non abbiamo anche qui i soliti genitori insomma che poco presenti o non so quelli che ci fanno alla fine vivere con un sacco di rimorse e di rimpianti ma un bel esempio da seguire nonostante per l'appunto le difficoltà che ci sono nella vita di tutti insomma una serie fantastica guardatela se non l'avete fatto perché è bellissima bene ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto questo video un po' diverso dal solito in cui vi parlo delle mie serie preferite ditemi quali sono le vostre in modo che magari insomma anch'io mi metta all'opera e possa aggiungere a questa lista qualche altra serie da non perdere e niente noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao ciao